Un saluto anche da parte mia dal campo della BAS dove fervono i preparativi per la partenza, per quello che è il primo corridoio umanitario nato dal basso, nato da un'esperienza di condivisione, di convivenza. Questo corridoio umanitario è una storia di amicizia, di persone che hanno avuto la disponibilità a compromettersi, a stare insieme ai profughi. È una storia di persone che non hanno ragionato in termini di numeri, ma in termini di persone. Si sono chieste da dove venivano queste persone che bussano alla nostra porta e hanno deciso di andare a vedere, di andare a conoscere le storie, le persone e i bisogni che ci sono dietro a questa grande migrazione. 60 milioni di profughi sono un numero. Di fronte ai grandi numeri spesso l'atteggiamento è quello di dire noi non possiamo fare niente. Questo corridoio umanitario dimostra che qualcosa si può fare, però appunto partendo dal desiderio di incontrarsi e di conoscersi. Siamo al giorno prima della partenza. Le persone che sono qui e che verranno anche a Trento sono combattute credo fra due grandi sentimenti. Sentimento sicuramente di gratitudine e di speranza perché una comunità come la nostra ha permesso loro di immaginare un futuro per sé e per i propri figli. e l'altro sentimento è la grande preoccupazione per tutti quelli che rimarranno. Io penso che una comunità come la nostra nell'accoglienza e nel provare a rispondere a questa domanda è una comunità che cresce, che diventa più forte e che nel salvare l'umanità di queste persone salva anche la propria umanità perché in ballo non c'è soltanto appunto la vita di queste persone, in ballo c'è anche la nostra stessa umanità. A me fa molto specie pensare che la generazione precedente, la mia, ha avuto la grande possibilità di scegliere da che parte stare rispetto ai temi del grande conflitto, della resistenza e di quant'altro. Questa possibilità ce l'abbiamo anche noi oggi e un domani la generazione successiva della nostra ci chiederà da che parte stavamo e se abbiamo fatto qualcosa di fronte a questa grande emergenza.